Siamo in un nuovo video, Reef of France, andremo a lottare un pochino, decisamente con tante gemme, le sono tenuto per questo video, anche nell'altro che non avevo parlato, non erano entro le 11 di sera, non parlavo. Cioè mettiamo questo, ok, andiamo qua, mettiamo dei giganti, di questi qua, un pochino di alcieri, no, basta, si può più mettere un cazzo, vabbè, andiamo a lottare, Dove è possibile? Andiamo, qual è la parte? Questa, dai, mettiamo i giganti, un pochino di questi, in giro, che vagano, dopo un po' di questi, tanti giganti, un sacco di giganti, un po' di questi, Ok, adesso aspettiamo che ci vado le stelle, facciamo le stelle. E' una stella, ce la possiamo fare, raga, una, dico solo una, guarda, raga, e' anche una stella, dai, si, una, si, ce la possiamo fare, Almeno una, due, no, e' vero, i giganti sono morti, tutti andati a casa, come saltano, poverini, questi qua, qua, Va, va un disastro, qua, che giganti, cazzo, dai, dai, no, da solo, poverino, cosa, cosa, ha nelle mani sto qua? Abbiamo fatto due stelle, raga, almeno, per me è abbastanza, due stelle, Ok, andiamo, e andiamo indietro, si, dove era, dove era, dove era, ecco qua, andiamo qua, ecco così, Aspetta, volevo vedere una cosa, ragazzi, se ho ancora delle mura, no, le mura non ce le ho, Cosa possiamo mettere? Abbastanza soldi, mettiamo uno di questi qua, Torno, così, per difendere un po', I soldi c'è nello sacco, No, così, mi fanno schifo, Quanto cazzo, Ok, Dobbiamo chiudere sto buco benissimo, Ok, Sarà, L'uso bene, va bene, Ok, Voglio fare una cosa, Togliere questi cosi, E metterli qua, E mettere sto buco qua, Così, No, 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 non viene, ragazzi, E questo, Metterlo qua, Così, Che difendo un pochino, Qua abbiamo un sacco di bombe, Le togliamo, Sperno, Chiudiamo qua, così, Moriranno tutti qua, Sulle bombe, Ci chiudiamo, E chiuso proprio tutto, E così, 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 Samente sempre aperto, No, raga, Non è aperto, Madonna mia, Tutte le bombe qua, Tutto là, Allora, Potremmo fare un culo tremendo qua, Così, 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 Che cosa fai? Non si muove, Raga, Ok, Così, 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 Non so dove metterle, Ci sono un sacco, Raga, Forse le mettiamo qua, Così, Ci vediamo, Chiudiamo qua, Un pochino, Così, così l'unico pezzo che è rimasto mettiamo così mettiamo qua mettiamo questi vabbè andiamo quanti attacchiamo qua questo continuo da andare non so se attaccare raga andiamo dai vabbè perdiamo perdiamo mettiamo quanti giudanti dietro qua sono ammucchiati quanti giudanti qua ce ne saranno un sacco di serie perché li ho visti tutti quali hanno a stella rifacciamo una almeno dai no quanti cante un soldino ragazzi un soldino peccato ok togliamo questo mettiamolo qua sta più bene ok cos'è ok andiamo ho sprecato un sacco di soldi raga posso mettere ogni più pochi che posso mettere così cazzo quanto cazzo ti chiamo che sto consumando raga andiamo qua attaccare andiamo qua attaccare andiamo qua attacchiamo questo qua andiamo attacchiamolo raga e volevi che cazzo vuole fare spaventarmi che io so guardo mi guardo sempre di lato ok adesso andiamo tutti giganti andiamo là oh che cazzo volete fare contro loro sono più forsti di voi magica giganti quando distruggono tutto stanno aumentando un pochino i soldi un pochino non tanto dai questi qua sono i due si mi aiuta lei che aiuta subito una stella l'abbiamo fatta raga una una diciamo una tre una su due resto dai dai è l'unica incredibile sta morendo dai dai è è è è il tempo che ce ne abbiamo poco anche adesso dai è distruggi 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 tre due due a due dai non ci credo ok cosa finito oh oh sei bloccato raga non so raga sei bloccato c'è ancora uno che è che è raga no raga che cazzo è no no non ci credo non ci credo raga non ci credo no quanto lo amo quanto è l'unico l'unico su mille l'unico sta lottando con i pugni minchia mancera non ci verrà mai dovrebbe volutare ancora qua vabbè l'unico che è rimasto ragazzi su cento su mille dai dai ed prima che scatta il tempo rompì un pugnetto hai pugnetti piccolissimi non puoi ruttare tanto così ok finish ragazzi questo è tutto per oggi questo video ci vediamo alla prossima mettete un mi piace iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto il video come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi